Ciao, siete su TV Pigna, come vi chiamate? Io Reinhard Io Barbara E' la prima volta che venite a un evento live Sì? Sì E cosa vi aspettate dalla serata? Di bere Esatto, uguale Di divertirmi o scio-briaco Divertirmi con gli amici Limoni Siete qua in cerca di amore o di avventura? Limoni Avventura Festa, avventura, festa totale Te invece? Sballo Sballo totale Semplicemente di divertimento con gli amici e la solita compagnia Avventura Anch'io Di avventura Avventura io Avventura anche io Il tuo drink preferito? Malibu Sex on the beach Angelo azzurro Malibu cola Kipi roschi e la fregola E peschito? A me non piace l'alcol, solo acqua naturale La prima cosa che guardate in un ragazzo? La bocca Sei simpatico Gli occhi Il corpo e la faccia Te Fisico Occhi Collo Gli occhi Gli occhi Il comportamento Sorriso Le tette Il culo Beh, il carattere e gli occhi Te Gli occhi Io ho il culo Il tette Che cazzo È il culo La simpatia Fisico Gli occhi Se si differenzia dalle altre Il viso Gli occhi Vedete Cosa vi dicono più spesso? Stronzo Cretino Swag Beh, che ho dei begli occhi e... E il seno Puttana Se lui ti tradisce, lo perdoni? Dipende Ma neanche, no No, no No In vacanza, dove e con chi? In Florida, se avessi una ragazza Maldive, se avessi una ragazza Emilia Romagna con mia nipote, si chiama Nicolas Ibiza Con una bella ragazza Ad Amsterdam, quella bella figa Vieni in Croazia con me Una persona che stimi? Mia mamma Bella Rodriguez Che soluzione troveresti alla fame nel mondo? Di non essere più tirchi Ci sono molte donne che non ingoiono e... Non pensano ai bambini affamati che non ce l'hanno E lo piazzate un bel limone stasera? Non lo so Può darsi Ovvio, sempre Non lo so Dipende, se la giornalista vuole No Sì Non so cos'è Si spera Si viene Beh, sì Speriamo di piazzare qualcosa di più, dai Direi di sì Spero Sì, dai Ho l'amorosa Penso di sì Sì, dai È ovvio No, non sono venuto per quello Sì, dai Sicuramente Sì Sì, è particolarmente figo può essere, però boh Te invece? Boh, probabile Speriamo La vedo dura C'è più cazzo che figa Sì, dai Facciamone due Ovvio Lo facciamo in diretta Il padre di Roberta ha cinque figlie Una si chiama zazzana, una zezzena, una zizzina e una zuzzuna, come si chiama la quarta figlia Zuzzuna Sì Sì Se è durante una gara, superi il secondo In che posizione arrivi? Non lo so Primo Se è durante una gara, superi il secondo In che posizione arrivi? È in primo 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 Qual è quella cosa che si allunga quando la prendi in mano? Quando la passi tra i seni e che si introduce in un buco? Cazzo Verme? No Non lo so Un dito Non lo so La lumaca È il pisello La caramela 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 La caramela